Ricordo che un giorno mi chiamò in cucina, c'era la mia agenda esposta vicino alla sua tra l'altro e mi disse ma scusami ma tu fai veramente tutti questi appuntamenti? E io disse sì e lui mi disse ma scusami sei diventato me ma com'è che io non lo so. La mancanza la faccio breve perché mi allungo, è totale ma sulla continuità devo dire che lui è stato così grande da riuscire a dare ai suoi figli, a me nello specifico, anche la possibilità di andare avanti senza di lui prima di quello che è successo. Quindi è importante.